Ben trovati al meteo, alta pressione africana sull'Italia e dunque anche sul nostro territorio avremo sole e un clima rovente, insomma una nuova ondata di calore, il dettaglio di mercoledì 7 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo in prevalenza sereno o velato salvo per locali annuvolamenti più che altro a partire dalle ore più calde sulle zone montane ma senza piogge associate. Temperature in aumento con crescente sensazione di afa, minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole e dappertutto, come vediamo il cielo sarà limpido, sgombro da nubi, senza precipitazioni. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata con un ampio soleggiamento e cielo sereno. Temperature minime intorno ai 21-22 gradi, massime infine sui 35 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.